berretto in lana anni 90 ex dotazione esercio italiano prodotto in tramatura molto sottile è un cento per cento lana particolare modello di ultima serie in quanto precedentemente erano stati presi in adozione altri modelli oramai fuori ordinanza da tempo la composizione purtroppo di tutta lana porta a trovare questi piccoli forellini dovuti alle tarme che lo hanno attaccato pur essendo conservati perfettamente in alcuni casi troviamo dei pezzi dei capi nuovi come in questo caso etichetta lana 100% mai indossato ma tenuto in un magazzino e conservato ovviamente in malo modo viene attaccato alle tarme capo di seconda scelta con visibili forellini variabili da pezzo a pezzo